a sindaco quanto la democrazia, cioè il risultato è stato fantastico, possiamo dire di essere i rappresentanti della maggioranza non assoluta di più della cittadinanza che ci ha riscontrato con il loro voto, quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio i candidati, ringrazio la popolazione avrà un modo e in bocca al lupo a tutti e diamoci da parte come al solito, diamoci da parte.